Se dovessi definire questa vacanza come una parola, userei sicuramente la parola viaggio. A due passi da casa mi sono goduta questa regione e l'ho potuta attraversare con la bicicletta a piedi e dove il percorso era così ripido da non poterlo fare a piedi, ho utilizzato la cremagliera per salire e mi sono goduta un panorama incredibile. Quando avevo bisogno di trovare il ristoro l'ho trovato sia nell'accoglienza familiare dei grotti che nella grande ristorazione di livello degli alberghi della zona. Sono rimasta incredibilmente meravigliata dalla ricchezza culturale dell'offerta di questa regione. Ho potuto passeggiare tra castelli medievali, patrimonio dell'UNESCO e arricchirmi culturalmente visitando musei di arte contemporanea. Ho scoperto un Ticino così ricco e a due passi da casa che tornerò sicuramente.